è finita così è finita così con quel pallino in fondo lo vedete quello lì a destra che certifica la vittoria dell'olimpiacos sono sinceramente dispiaciuto per la fiorentina per il modo con cui questa vittoria è arrivata per l'olimpiacos e questa sconfitta è arrivata per per la viola perché nell'arco dei cento e chissà quanti minuti che abbiamo visto questa sera molto probabilmente ai punti avrebbe meritato di vincere la fiorentina è vero che per l'olimpiacos c'era un rigore grande come una casa per per un fallo di mano di martine squarta e cosa tra l'altro sulla quale marianella e minotti hanno sorvolato in maniera abbastanza spudorata ma ecco è veramente è veramente una roba cioè una maledizione questa per la fiorentina una maledizione ci possono essere dei motivi e delle ragioni dietro la seconda sconfitta consecutiva all'ultimo minuto del tempo da giocare l'anno scorso era stato il west ham quest'anno è stato el cabi tra l'altro la prima volta nella quale il cabi non viene marcato dall'ottimo milenkovic e invece dal disastroso ranieri arriva il gol sarà un caso non credo milenkovic fino a quel momento aveva tolto di mezzo dalla partita all'attaccante dell'olimpiacos autore più di 30 gol quest'anno protagonista con mi pare 4 gol su 5 nella partita di semifinale con la stone villa e quindi pericolo pubblico numero uno era stato completamente annientato fino a quel momento in una partita vissuta su ritmi non altissimi ma comunque con una discreta intensità ecco non mettiamola così insomma si vede anche dal grafico ritmi non eccezionale qualche impennata della fiorentina nel primo nel secondo tempo nel complesso tanti errori tecnici tanti errori di scelta tanti errori di esecuzione li abbiamo visti da una parte dall'altra abbiamo visto sbagliare anche giocatori che a questa partita avrebbero dovuto portare qualità penso a non so nico gonzalez penso ad arthur penso a mandragora ma anche gli esterni con dodò con biraghi che ha finito presto le energie e dall'altra parte la fiorentina che ha avuto diverse occasioni come quella ad esempio con buonaventura in avvio di partita come quella di quame nel secondo tempo e la fiorentina si è proposta nella metà campo della dell'olimpiacos sappiamo che la viola è una squadra che è una squadra che alla quale piace molto palleggiare nella metà campo avversaria nella nostra serie a era andata oltre 76 per cento addirittura di di scambi i passaggi nella metà campo avversaria rispetto alla propria e anche questa sera siamo andati nel primo tempo sopra il 70 per cento abbondate ma tutto questo non ha prodotto con continuità quel tipo di situazioni che avrebbero ecco veramente fatto gridare fa virgolette allo scandalo questa sera per la vittoria dell'olimpiacos la fiorentina ha abbastanza condotto le danze della partita ma di fronte si è trovata un avversario assolutamente ostico assolutamente organizzato ora vi faccio vedere le posizioni medie dei giocatori del dell'olimpiacos vedete un'organizzazione ferrea di un allenatore come il il tecnico mendilibar che si conferma tra l'altro vincitore di coppa che io ricordavo a leibar perché ha avuto una lunga carriera nella squadra spagnola che per tanti anni è rimasta in prima divisione e che ha dimostrato veramente come con anche una qualità non eccelsa ma attraverso l'organizzazione si possano fare delle cose buone la stessa cosa si può dire anche della fiorentina e ma ci arriviamo è stata è è stata una partita veramente che ci ha dato la sensazione un po di non avere un padrone la sensazione di poter nascondere la fregatura per la fiorentina già dall'inizio io ho avuto questa sensazione ho avuto la sensazione che per una ragione o per l'altra fosse più facile assistere al gol dell'olimpiacos piuttosto che al gol della viola anche per l'inconsistenza del reparto offensivo bonaventura ha avuto quell'occasione poi si è si è un po perso anche perché nella sua zona adesso ve lo faccio vedere guardate nella zona di bonaventura che ha giocato mentre si pensava che potesse giocare bel tran come sempre accade come sempre accaduto nelle ultime settimane nella zona di bonaventura ha agito un giocatore che ha fatto veramente una buona partita e che sapevamo insomma potesse determinare un po ecco le coperture la rapidità di ribaltare l'azione e cioè cichigno vedete come si sovrappongono le zone d'azione e quindi questa è stata una delle chiavi della partita poi naturalmente c'è stata la prestazione degli attaccanti con un belotti che è vero ha tirato tre volte una fuori due volte bloccato non ha fatto una grande partita ma è tutto cioè il problema proprio della fiorentina è questo perché anche dico gonzalez seppur qualcosina di più non ha fatto un gran che qua me si è dato tanto da fare ma non ha fatto un gran che zola è stato un disastro credo che non abbia tenuto nemmeno un pallone e con un fisico di un metro e 90 così non riuscire a tenere nemmeno un pallone è veramente preoccupante poi c'è beltran anche lui è entrato in un momento molto molto delicato quindi ecco la partita la fiorentina la poteva vincere perché poi anche da un punto di vista di statistiche i gol attesi della fiorentina sono stati 1.03 perché ci sono state c'è stata l'occasione di bonaventura al ventunesimo poi c'è stato il colpo di testa di milenkovic al sessantaquattresimo poi c'è stata l'occasione di quamea sessantottesimo poi c'è stata l'occasione per icone al minuto 109 e in mezzo ci sono state un paio di occasioni anche per loro ma vedete comunque seppur non non è che gli xg sono 4 1.3 però rispetto al 0.64 dell'olimpiacos sono sicuramente di più sono stati 17 tiri totali a 6 anche se poi bisogna analizzare i tiri perché vedete i tiri totali sono stati vero 17 a 6 ma alla fine le due squadre hanno tirato in porta lo stesso numero di volte cioè 4 è stata una partita strana da questo punto di vista è stata una partita strana una partita che decifrarla è difficile il cui finale purtroppo ripeto pareva un po scritto e che vede la fiorentina per la seconda volta di fila incredibilmente perdere nello stesso modo l'ultimo atto della conference league ora bisogna aprire un capitolo su vincenzo italiano perché se è vero che mindilibar ha fatto un ottimo lavoro con la squadra greca portandola a eliminare la grande favorita per la vittoria finale cioè la stone villa dall'altra parte c'è un allenatore che ha fatto altrettanto un ottimo lavoro secondo me vincenzo italiano è un allenatore troppo sottovalutato considerando il suo percorso con una squadra come la fiorentina che onestamente non è che sia una squadra di primissimo livello cioè secondo me la rosa della fiorentina ha una rosa dimensione conference league e infatti è arrivata fino in fondo a questo torneo ma ci sono veramente dei problemi e ci sono dei problemi che vanno al di là di quelle che sono le idee di italiano che noi conosciamo anche una certa difficoltà con i giovani comunque una una fase difensiva sempre abbastanza tra virgolette rischiosa però una proposta di calcio ordinata ragionata una proposta di calcio che riesce ad essere gradevole nonostante gli interpreti siano quello che sono diciamoci la verità perché insomma giocatori come qua me ma anche il buonaventura di quest'anno anche lo stesso dodò che secondo me è un giocatore molto fumoso e per non parlare di per non parlare dei cambi perché sono entrati duncan entrato barack entrato icone entrato zola cioè veramente è veramente dura chiedere di più a italiano con questa con questa rosa ora italiano lascerà firenze lascerà un'eredità importante con tre semifinali con due finali giocate e contano con tre finali giocate perché giocata uno di coppa italia e due di conference league per due anni di fila è arrivato in fondo a una competizione europea che al di là di quello che insomma molti dicono della bontà o meno di questo torneo della sua difficoltà o meno resta un percorso resta un percorso fatto è un percorso importante e mai banale e mai banale mai facile ecco quindi credo che vada sottolineata la bontà del lavoro di italiano e va gli vada anche riconosciuto una certa sfiga se posso permettermi perché davvero è vero che le partite anche questa sera come dicevo c'era un rigore per l'olimpiacos c'era probabilmente anche un fischio dell'arbitro mancato nell'occasione poi che ha portato sui suoi sviluppi al gol dell'olimpiacos ma è un po di sfortuna chiamiamola sfortuna c'è stata un po di sfortuna dai perché prendere il gol proprio lì proprio quando quel pallino lì vedete quel pallino in fondo quando sei alla fine accidenti almeno porta te le rigori almeno porta te le rigori e poi li va come deve andare peccato avremmo potuto vincere la seconda coppa su tre e così non posso neanche dire che la fiorentina ci riproverà l'anno scorso perché non ho idea di chi guiderà la fiorentina l'anno prossimo non posso dire che la fiorentina ci riproverà l'anno prossimo perché non ho idea di chi guiderà la fiorentina l'anno prossimo quello che so è che gli allenatori che arriveranno se la squadra non verrà rinforzata con davvero giocatori importanti o comunque di cui di buona qualità difficilmente difficilmente potrà fare il percorso che ha fatto vincenzo italiano in questi tre anni alla fiorentina